Io vivo da due anni con 300 euro al mese e con l'aiuto di mio fratello pensionato anche lui che con sacrifici mi ha aiutato finanziariamente. Pollegato mi ha dato la forza di reagire ancora un anno fa quando abbiamo occupato la Torre di Cordova. Però a tutt'oggi io mi trovo qui. Ho avuto aiuto morale anche dal primo cittadino di Cordova, dal sindaco Toneguzzo Francesco che mi ha sostenuto di quel che poteva ma più che altro moralmente. Alla fine il silenzio da Roma, colpevole, silenzio colpevole, colpevoli. PD, PDL, Monti, Fornero, Mastrapasqua che con 85 milioni di euro poteva salvare tanti esodati. invece di metterli nell'ospedale israelita. So che domani c'è una riunione, so che insomma state tirando le fila per cercare di ricompattare il movimento 9 dicembre. Un movimento che si è assorto spontaneamente ma che poi, non dico dissolto, ma come sempre accade qualcuno ha voluto alzare la testa più degli altri. Adesso stiamo cercando appunto di riorganizzare il tutto e ognuno si prenderà le proprie responsabilità di quello che sta succedendo. Noi vogliamo cambiare questo paese. Domani sera faremo questa riunione, io ho invitato anche i commercianti locali, ho invitato tutti i presidi alle 20 e 30, sì, nel teatro della chiesa, faremo il punto della situazione e cominceremo a organizzare bene tutto quello che si dovrà fare. Un'altra cosa, mi dispiace che un'altra persona oggi si è tolto la vita a Padova, che è una cosa molto molto triste. Grazie. Grazie.